Sono Igor Macchia, Executive Chef del Credenza Group, di cui fanno parte tre ristoranti. Il ristorante La Credenza, San Maurizio Canavese, un ristorante gastronomico stellato Michelin dal 2006, il ristorante Casa Format, un ristorante più semplice improntato sulla cucina vegetale a tettiva al fre a Orbassano ed SP143, la nostra ultima nata, che è una pizzeria di livello sempre a tettiva al fre a Orbassano. Il progetto con GEAS di Torino nasce per la volontà di tutti e due i gruppi, quindi GEAS e Credenza, di provare a inserire un evaporatore rotante in una cucina gourmet come quella della Credenza. Abbiamo cercato di inserire questa macchina che ci sta dando delle grandi soddisfazioni, devo dire, e la cosa molto interessante secondo me è che anche la cucina è molto più salutare perché non andiamo ad aggiungere nessun condimento, nessun sale, abbiamo soltanto il gusto principale della materia prima che venendo concentrato risulta molto più gustoso, molto più buono senza l'aggiunta di assolutamente nulla. La macchina è divisa in tre parti, la parte di destra è quella dove si inserisce il liquido da distillare che rimarrà poi concentrato, la parte di sinistra è quella dove per caduta da questa serpentina in cui passa dell'acqua fredda si ottiene il distillato e poi abbiamo la parte della pompa del sottovuoto che permette di far sì che i liquidi si concentrino ed evaporino a temperature molto basse e quindi non abbiamo bisogno di scaldare troppo un succo, un concentrato e non lo roviniamo a livello di caratteristiche organolettiche e il distillato che abbiamo è un distillato molto molto puro.